Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Padre Pio ci ha lasciato molte preghiere, tra cui una per chiedere a Gesù un miracolo di guarigione per te e per i tuoi cari. La vita di Padre Pio fu segnata da una completa dedizione al prossimo e da un profondo amore per Dio, che dimostrò in tutte le sue preghiere. Era famoso per i suoi doni magici, con i quali era in grado di capire l'anima delle persone, e così tanti venivano sempre da lui per il suo aiuto. La stessa cosa che fece in vita continuò a fare dopo la sua morte, perché a lui viene attribuito un gran numero di miracoli, che furono ciò che lo resero santo. Per questo oggi puoi usare una delle sue potenti preghiere, nei casi in cui hai bisogno di un miracolo di guarigione, sia per te stesso che per qualcuno a te vicino. Preghiere di guarigione Preghiere di guarigione Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Signore Gesù Signore Gesù, credo che tu sia vivo e risorto, credo che tu sia realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare e in coloro che credono in te. Signore Ti adoro e ti lodo Ti ringrazio, Signore, che sei venuto a me come pane vivo dal cielo Tu sei la pienezza della vita Tu sei la risurrezione della vita Tu, Signore, sei la salute dei malati Oggi voglio presentarti tutti i miei mali, perché sei la mia salvezza, ieri, oggi e sempre Tu mi conosci Ora, Signore, ti chiedo di avere compassione di me Rinnova la mia fede e la mia anima Abbi compassione del mio corpo, del mio cuore e della mia anima Abbi compassione di me, Signore Benedicimi e fammi ritrovare la salute Possa la mia fede crescere e farmi vedere le meraviglie del tuo amore Ed essere anche una testimonianza della tua potenza e della tua compassione Ti chiedo, Gesù, con la potenza delle tue sante piaghe, della tua santa croce e con il tuo preziosissimo sangue Salvami, Signore Guarisci il mio corpo Guarisci il mio cuore Guarisci la mia anima Dammi la vita La vita in abbondanza Te lo chiedo Per intercessione di Maria Santissima Tua madre La Vergine addolorata Che era presente sotto i tuoi piedi Accanto alla croce E che ci hai donato come madre Tu ci hai rivelato che abbiamo portato su di te i nostri dolori E con le tue ferite siamo stati guariti Oggi, Signore Ti presento tutti i miei mali e ti chiedo Guarisci mi completamente Ti chiedo Ti chiedo Mediante la gloria del Padre Che è nei cieli Di guarire i mali della mia famiglia E dei miei amici Possano essi crescere nella fede Nella speranza E ritrovare la salute con la gloria del tuo nome Affinché il tuo regno Si diffonda sempre più nei cuori Attraverso i segni E i prodigi del tuo amore Tutto questo Vi chiedo Perché voi siete Gesù Voi siete il buon pastore E noi siamo le vostre pecore Sono così sicuro del tuo amore Che prima di conoscere il risultato delle mie preghiere Ti dico con fede Grazie Gesù Per tutto ciò che farai per me E per i miei fratelli Grazie per i malati che stanno guarendo ora Grazie per aver visitato con la tua misericordia Coloro che ne hanno bisogno Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti